Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite Non so se avete visto finora i due teaser proposti da parte di Epic Games nelle ultime 48 ore Ma due giorni fa, ovvero domenica, abbiamo ricevuto da parte degli sviluppatori questa prima immagine La quale, come ben tutti sappiamo, va a raffigurare un uncino Ieri pomeriggio invece, con il secondo teaser, ragazzi, ci è stato svelato qualcosa che andava oltre alle nostre aspettative Se vi siete persi gli ultimi aggiornamenti di Fortnite, tranquilli ragazzi, in questo video andremo a spiegare tutto quanto per bene E soprattutto che cosa sta cercando di dirci la Epic Games tramite queste immagini Tornando a quella che è la seconda immagine, possiamo notare che da un uncino siamo passati a quello che è un serpente In questo caso un cobra, che si va ad affiancare alla prima immagine Infatti la prima e la seconda immagine combaciano, si possono unire perfettamente tra di loro e formarne una sola E da qui, al centro dell'immagine, ragazzi, non si capisce se è la parte superiore di un teschio La parte centrale potrebbe essere un naso, oppure se è primo teaser e secondo teaser Quindi tutto ciò che riguarda la parte superiore dell'immagine in sé potrebbe essere un cappello di un pirata Ciò lo scopriremo solamente oggi alle 16, avendo il terzo teaser Quindi ci ribeccheremo in live nuovamente per andarla a scoprire tutti quanti assieme Mi raccomando, ragazzi, vi aspetto tutti quanti intorno alle 15.45 sul canale Per il momento il mio caro amico Gabriel, che è fissatissimo con tutto ciò che riguarda Fortnite e i suoi leaks Ha elaborato quest'immagine che sta facendo il giro del mondo, ragazzi, letteralmente il giro del mondo Tale immagine riguarda primo, secondo, terzo e quarto teaser Tra cui questi due ultimi che ancora devono uscire Però ci siamo fatti già una mezz'idea su quello che potrebbe essere il teaser completo Con tutte quelle che sono le quattro immagini proposte dalla Epic Games Anche perché la Epic ci propone ogni volta una singola immagine La quale si va ad unire sempre all'ultima uscita Per poi andarne ovviamente a formarne una sola Quindi da qui possiamo vedere un teschio, in questo caso un pirata Con il suo cappello formato poi dal primo e secondo teaser Fatemi sapere qua sotto tra i commenti che cosa ne pensate di questo concept Perché ovviamente non è l'immagine ufficiale Attenzione ragazzi È solamente frutto dell'immaginazione di un player di questo gioco Però a mio parere ci potrebbe stare l'immagine, è ben fatta Davvero, GG è lui, non vedo l'ora di scoprire quale sia il terzo teaser Perché da qui in poi scopriremo tantissime cose Sicuramente l'immagine verrà stravolta ma avremo un quadro un po' più chiaro Ritornando a quello che è il serpente, ragazzi, attenzione C'è una cosa importantissima da dire In quanto ieri appena è stata messa online da parte di Epic Games La seconda immagine che riguarderà la season 8 Sono andato subito sull'account Twitter di Donald Mustard Direttore creativo presso Epic Games E che cosa ha fatto il nostro ragazzotto Ha ruittitato l'immagine che raffigura il serpente Quindi il secondo teaser E sapete qual è stato il suo commento a ciò? Una semplice emoji In questo caso, l'uovo Ci ha spoilerato tutto ragazzi L'unica cosa che c'è da capire è perché queste uova siano scomparse da Picco Polare Non sono più presenti nella prigione Quindi nei sotterranei di Picco Polare non c'è più nulla Ma sappiamo che si tratta di uova di serpente Infatti non so se ricordate bene l'immagine che era all'intorno di queste uova Rappresentava appunto un serpente E questo serpente è stato confermato tramite il secondo teaser Quindi ragazzi, nessun uovo di drago si tratta di uova di serpente Un'altra cosa molto importante che possiamo trovare sul profilo Twitter di Donald E che ha cambiato la propria residenza in Wailing Woods Ovvero Bosco Blaterante La cosa è alquanto divertente Chissà che cosa succederà in quella zona ragazzi Come è stata poi presentata questa seconda immagine Così ragazzi Qualcosa scintilla Con tre S, attenzione Perché proprio richiama quello che è il suono di un serpente a sonagli Nella grotta profonda Ma attenti a coloro che arrivano sull'onda Quindi di non incentrare troppo la propria attenzione su questo tesoro Ma di guardarsi le spalle Quindi stare attenti E di volgere lo sguardo sull'orizzonte perché qualcuno sta arrivando In questo caso i pirati che approdano sull'isola di Fortnite Questa cosa mi sta appassionando troppo ragazzi Ogni giorno mi intriga sempre di più La Epic sa davvero lavorare troppo con queste cose Appena si pensa ad una grotta ragazzi Viene in mente subito quella dello Yeti Quindi la casetta del nostro amato Trog Che si trova in questo caso a sud ovest della mappa Proprio qui Scendiamo e vi faccio vedere una cosa Questo è l'unico punto che secondo me potrebbe interessare Quello che viene citato nella presentazione del secondo teaser Lì potrebbe essere posto un tesoro scintillante E alle nostre spalle potrebbe esserci un nemico Che sta arrivando proprio sull'isola di Fortnite In quanto se ci giriamo ragazzi si vede benissimo il mare È come se il tutto fosse fatto apposta Anche se io so per certo che questa grotta Non c'entrerà nulla con la Season 8 e con i pirati A proposito di pirati e di onde ragazzi Ci sposiamo al nord est della mappa Un po' più a destra di Bosco Blaterante Che al momento in queste condizioni L'evento sta progredendo sempre di più Ha raggiunto addirittura il ponte di Tempio Tomato La parte ovest è tutta marrone Questa cosa è assurda ragazzi L'evento si porta avanti ogni ora sempre di più Guardate un po' dall'alto quelli che sono gli alberi E soprattutto il terreno ad ovest È assurda questa cosa ragazzi È tutto quanto secco Oh mio dio che colorito che c'hanno questi alberi Da lì invece adesso è tutto quanto nella norma ragazzi Comunque procediamo nella parte est di Bosco Blaterante Perché forse e dico forse Non sono sicuro di ciò che sto dicendo Me lo avete fatto notare voi in live L'ho visto anche da Calabres All'orizzonte sta succedendo qualcosa Ma non è detto attenzione Può essere solamente una texture In quanto non è nulla di sicuro Proprio come lo è la luce che appariva a nord est della mappa Che in questo caso addirittura è riapparsa Oh mio dio non ci sta capendo nulla con questa luce Ieri sera in live non c'era Ad essere riapparsa Fa un giorno sì e un giorno no È una sorta di messaggio Comunque ritornando a quelle che sono le onde ragazzi Ad est della mappa Se vi posizionate proprio qui alla destra di Bosco Blaterante Potrete notare un qualcosa che si è generato da pochi giorni credo Sinceramente non ho monitorato questa zona della mappa E non sono sicuro di ciò che sto dicendo Non so quando si sia creata questa sorta di onda Sembrerebbe essere un'onda Che sta per arrivare sulla mappa Però ripeto ragazzi potrebbe essere solamente una cosa messa lì a random Un evento simile a quello che è stato l'iceberg a sud ovest della mappa Però quello lì era di gran lunga diverso rispetto a questo Si avvicinava ogni ora sempre di più alla mappa E soprattutto come al solito di ogni evento di Fortnite Emetteva strani suoni Quindi io per il momento su questa sorta di onda Metto proprio una X ragazzi Non credo sia un evento Anzi mi incuriosisce ancora di più quella che è la luce posta lì sopra In direzione di Bosco Blaterante Che per il momento è per lo più secco Io spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi Spero anche di aver fatto chiarezza a tutti coloro che magari non stanno seguendo ultimamente Quelli che sono gli aggiornamenti di Fortnite Siamo qui apposta Mi piace un sacco fare questi video per tutti voi Riassumere un po' tutto ciò che sta succedendo attorno a Fortnite Mi raccomando ragazzi supportate il canale lasciando un bel like al video E se volete utilizzate il mio codice creatore Nello shop JKR Martex Tutto attaccato Maiuscolo minuscolo che sia E uguale Noi ci becchiamo oggi in live all'ora 15.45 Per andare a scoprire il terzo teaser della season 8 Un saluto da Martex Ciao brothers Ciao